oggi il nostro folle vicino ha rivelato ancora una volta la sua vera natura il suo disprezzo per la dignità la libertà e la vita umana stessa e soprattutto la sua paura una paura così travolgente da scatenare un missile dopo l'altro setacciando il globo alla ricerca di altre armi che provengono dall'iran o dalla corea del nord oggi è stato un nuovo missile russo la sua velocità e altitudine suggeriscono capacità balistiche intercontinentali le indagini sono ancora in corso è chiaro che putin sta usando l'ucraina come banco di prova è anche chiaro che è terrorizzato dalla vita normale accanto a lui una vita in cui le persone vivono con dignità un paese che vuole essere libero e ha il diritto di essere indipendente putin farà di tutto per impedire al suo vicino di sfuggirgli di mano e ringrazio ogni ucraino uomini e donne che difendono l'ucraina da questo male con resilienza coraggio e forza con dignità dignità è una delle parole che definiscono l'ucraina ed è una parola che probabilmente non verrà mai più pronunciata in russia salve amiche e amici queste sono le parole di zeleschi oggi a seguito dell'attacco che è avvenuto questa notte sulla città di ninipro con l'utilizzo di un rs 26 missile intercontinentale russo ieri vi avevo anticipato la movimentazione di questa piattaforma e infatti stanotte poi è stata utilizzata la grande paura è che potesse aver trasportato un ordigno nucleare ma così non è stato invece è stata semplicemente una dimostrazione di forza da parte della russia che ha implicitamente minacciato in modo nucleare l'ucraina con il lancio di un missile intercontinentale ed è un fatto senza precedenti nella storia da parte russia perché voglio dire finora l'abbiamo visto solo da uno stato canaglia come l'iran ai danni di israele questo è un fatto storico questi missili fra l'altro il loro lancio deve essere dichiarato globalmente non può essere fatto in questo modo e quindi anche in questo caso la russia ha violato l'ennesimo trattato internazionale il fatto che lo abbia usato come dice zeleschi è l'ennesima prova che ormai i russi sono completamente disperati e utilizzano una dialettica solo di questo tipo questi sono gli oggetti in rientro quindi questa questo missile ha rilasciato una serie di ordigni che poi sono diretti sono diretti verso la città di dnipro fortunatamente non ci sono stati morti bollettino dice il servizio di emergenza statale dell'ucraina in merito ai danni all'attacco dice al mattino il nemico ha attaccato dnipro due persone sono rimaste ferite l'edificio del centro di riabilitazione per disabili è stato danneggiato la cui sala caldaie è stata parzialmente distrutte è scoppiato un incendio in un edificio residenziale a due piani sul territorio del settore privato il tetto poi di un'area di 150 metri quadrati è andato in fiamme sempre in città sono state danneggiate un'impresa industriale è una cooperativa con un garage su cui è scoppiato un incendio insomma sono immagini che ci riportano indietro al primo 2 ottobre vediamo in questa immagine quando appunto l'iran scatenò una un lancio di missili balistici contro israele ma un missile balistico intercontinentale è un oggetto ben diverso rispetto a quelli lanciati dall'iran l'1 e il 2 ottobre è un oggetto molto difficile da intercettare che può essere appunto intercettato solo con un sistema molto sofisticato come la egis sm3 che cerca di intercettarlo mentre è ancora nello spazio la cosa migliore sarebbe intercettarli quando partono in realtà perché sono è il momento più vulnerabile ma ovviamente non è che abbiamo accesso alla russia per potergli spegnere i missili appena partono l'ultimo tentativo per loro intercetto è nella fase terminale ma a quel punto entrando nell'atmosfera a velocità nell'ordine di mach 10 20 è molto difficile intercettarli e anche intercettandoli poi i detriti comunque arrivano al suolo e fanno danni le immagini arrivano e insomma non ve le posso mostrare in tutto ma si vedono questi oggetti arrivare e colpire al suolo quindi è un fatto senza precedenti che appunto ci è qualcosa che non abbiamo mai visto cioè non abbiamo visto neanche nei peggiori giorni della guerra fredda quando questi lanci al massimo venivano condotti come test e comunicati a mezzo stampa è chiaro che questa è una risposta di putin diretta all'autorizzazione all'utilizzo dei missili storm shadow nell'area di kursk che ieri per riportare appunto la notizia gli ucraini hanno attaccato un centro di comando militare nell'area di kursk presso marino dove è stato colpito proprio questo edificio sede di un comando e le voci di corridoio parlano che all'interno ci fossero anche ufficiali nordcoreani il che insomma è una notizia non da poco tutto questo succede insomma e mentre la russia continua i suoi attacchi indiscriminati contro l'ucraina e i civili le strutture energetiche per mettere in ginocchio la popolazione la risposta ucraina è strategica e continua a colpire depositi di munizioni centri di comando e infrastrutture militari questo posso dirvi per quanto riguarda le notizie di oggi per quanto riguarda il fronte c'è stata una riduzione almeno gli aggiornamenti parlano di una riduzione del controllo ucraino nella regione di kursk come vediamo in questa mappa dove c'è stato appunto un ritiro parziale delle truppe ucraine da quello che era un'estensione del loro controllo qui e comunque si segnalano ancora combattimenti il 19 l'altro ieri il 18 dove sono stati colpiti mezzi russi bisogna sempre considerare che in quest'area questo successo ieri per esempio in quest'area i russi stanno cercando il tutto e per tutto per riprendere il territorio occupato questi fra l'altro sono gli aggiornamenti proprio a marino dove è stato colpito questo edificio che è un centro di comando e anche un edificio vicino questi sono stati attacchi di assoluta precisione utilizzando i missili storm shadow l'altro ieri come vi avevo già riportato nei due video precedenti gli ucraini avevano colpito questo grosso deposito di armamenti e munizioni utilizzando un missile balistico ata mcs per quanto riguarda invece il saliente principale nella regione di pokrovsk i russi avanzano continuano a occupare territori sono hanno raggiunto alla fine i combattimenti sono circa e così nell'area di cura cove combattimenti ormai interessano l'area del ponte e la periferia orientale piccoli guadagni sono stati fatti anche qui a darnie in questo piccolo centro abitato e invece per quanto riguarda a sud est di zaporizia ci sono anche altri piccoli progressi da parte russa come vediamo in questa immagine allora mi collego a un commento da parte della cara amica debora che mi scrive a proposito prima di questo vi invito mi raccomando a iscrivervi al canale lasciare un mi piace anche questo video se non lo avete ancora fatto come dicevo debora mi aveva scritto chiedendomi delucidazioni circa un telegiornale italiano che ha visto oggi su rai 3 in cui mi diceva enrico stamani mi sono imbattuta nella rassegna stampa del tg3 mi è venuta la nausea ma oggi ancora di più hanno scritto che zeleschi ci ha mentito perché la maggioranza degli ucraini vuole negoziati di pace con putin e fra l'altro dice che biden e zeleschi utilizzeranno le mine anti uomo che sono proibite in ucraina allora cara debora grazie per questa domanda questo spunto intanto è importante sapere che quando i telegiornali italiani riportano certe notizie molto spesso le prendono dai notiziari americani che in questo momento dobbiamo considerare che possono essere strumentalizzati o diciamo di un certo tipo di orientamento in questa fase delicata in cui c'è una transazione fra l'operato precedente dell'amministrazione biden e quello che farà l'amministrazione trump quindi bisogna stare un attimo attenti in ogni caso bisogna sempre considerare le due facce della medaglia non dobbiamo identificare il problema solo a biden e trump cioè il presidente degli stati uniti è sì il comandante esecutivo definitivo però fino a un certo punto perché certe decisioni sono prese dalla sicurezza nazionale certi ordinativi e consegne di armamenti all'ucraina erano pianificati da molto tempo da anni non da mesi quindi tutto rientra in una sorta di normale amministrazione comunque oggi la cbs parlava proprio di questo che gli stati uniti daranno anche nei pacchetti mine anti uomo all'ucraina questa è la notizia ripresa anche dalla bbc in cui viene riportato che i gruppi contro le mine anti uomo negli stati uniti criticano le forniture americane per le mine anti uomo all'ucraina ok poi quindi prendete questa notizia riportatele in italia metteteci un giornalista zelante e viene fuori il titolone alta tensione rusa russia usa nuova sfid nuova svolta di biden niente meno le mine anti uomo all'ucraina capite che c'è qualcosa che non va prima di tutto perché non sono arrivati comunicati stampa dalla russia su queste mine non c'è alta l'alta tensione russia usa è normale amministrazione come sempre sicuramente non hanno gradito le autorizzazioni per i missili storm shadow però questo lo hanno dimostrato con il lancio di un missile balistico intercontinentale oggi non si parla oggi non si parla di mine com'è la situazione realmente beh nel corso di questi quasi tre anni di guerra l'ucraina è diventata in realtà anche da prima dal 2014 l'ucraina è diventata la nazione del mondo più minata in assoluto e ovviamente i responsabili non sono gli ucraini ma larga maggioranza russi infatti dai primi giorni dell'invasione soprattutto poi quando sono stati costretti a ritirarsi da tutta l'area del nord e dalle regioni a sud hanno lasciato letteralmente il territorio disseminato di questi ordigni si parla di mine anti uomo si parla di mine anticarro si parla di trappole adesso entreremo un po più nei dettagli ovviamente anche gli ucraini hanno minato il territorio specialmente nella loro azione di contrasto alla via all'avanzata ucraina perché ovviamente vogliono che i carri armati russi ci finiscano sopra e infatti ci finiscono sopra ci sono tantissimi video documentati di motociclette carrette golf cab pick up carri armati mezzi per il trasporto di fanteria che ci finiscono tranquillamente sopra queste mine il problema è che appunto nel frattempo c'è qualcosa come più di 139 mila chilometri quadrati fate conto più di più di mezza italia se facciamo un discorso cumulativo è stata letteralmente disseminata di esplosivi che richiederanno decenni e decenni per essere bonificati territori che non possono più essere utilizzati e che è necessario l'utilizzo di mezzi speciali per poterli per poterli bonificare se parliamo da un punto di vista russo beh anche questo è tutto ben documentato quindi non penso proprio che eventuali forniture americane di mine anti uomo o anti carro all'ucraina faccia la differenza per i russi dal momento che i russi hanno pensato tranquillamente in questi quasi tre anni di disseminare l'ucraina di questi oggetti e si va appunto da vari ordigni a pressione o sismici con rilevamenti di appunto di vibrazioni anti uomo fino a per esempio queste che vediamo in queste immagini che vengono addirittura sganciate da lanci aerei dove ci sono queste bombe che si aprono hanno un sub munizionamento proprio a base di mine che disseminano il terreno di questi oggetti alcuni possono essere visti dai droni come in questo caso altri invece sono molto molto più subdoli e vengono piazzati dai soldati quindi si parla di oggetti anti uomo e che necessitano appunto di reparti speciali di artificieri con strumenti molto sofisticati metal detector eccetera per essere rilevati e grandissima professionalità ed esperienza è tutto molto ben documentato e fra l'altro proprio nelle ore nelle aree scusate in cui i russi si sono ritirati è documentata la presenza di tanti tantissimi ricordini a partire da quelli un po più semplici fra i alberi e cespugli con dei fili che si innescano al passaggio fino a vere e proprie sorprese dentro le case degli ucraini come vedete questa è stata bonificata però ecco la soluzione qual era apri lo sportello della tua cucina e ti ritrovi con questa sorpresa è pieno insomma di video e fotografie che documentano cosa gli soldati ucraini hanno trovato nelle case nelle aree lasciate dai russi questo per esempio è un barattolo di cibo qualcosa del genere ma per esempio anche può capitare sotto una sedia fuori uno è stanco va a sedersi e si ritrova appunto con un oggetto del genere sotto la sedia sono documentati per esempio ordigni improvvisati e mine letteralmente anti uomo piazzate dentro le lavatrici come in questo caso dentro i forni a microonde come in questo caso oppure addirittura quando apri lo sportelletto per il detersivo vedete si innesca qui c'è qui c'è una granata i russi lasciano anche per esempio le munizioni per i fucili con dentro delle delle trappole quindi è molto importante per i soldati non raccogliere niente da terra quindi non si parla solo di mine anti uomo ma di qualsiasi tipo di oggetto e trappola che i russi hanno lasciato dietro la loro avanzata o nella loro ritirata il discorso qual è che chiaramente finché si parla dell'ucraina che utilizza queste armi sul proprio territorio può sapere esattamente con precisione dove le ha piazzate e quindi poi pianificare una bonifica in futuro viceversa per quanto riguarda la russia che ti invade è un discorso ben diverso non è che ti dice dove ha piazzato le trappole e le mine quindi cara debora la situazione è questa ed è molto complicata e va avanti da anni ed è una situazione estremamente seria e complicata che richiederà molti decenni e ci saranno ancora anche se la guerra dovesse finire oggi a causa di questi ordigni ci saranno ancora migliaia di feriti e morti fra i civili ora è chiaro che poi notizie del genere vengono strumentalizzate ma a proposito invece per quanto riguarda il consenso di cui parlavi nel tuo commento anche qui le notizie vanno prese per quello che sono nel senso è chiaro che la popolazione civile ucraina è stanca e c'è l'inverno in arrivo io ho trovato articoli del 2023 in cui venne fatto questo sondaggio che poi ogni tanto vengono ripescati d'accordo ma è lo stesso kiev post a parlare di questo a giugno o luglio se non sbaglio l'ultimo sondaggio in cui dice che il 44 per cento degli ucraini ritiene che sia giunto il momento di avviare negoziati di pace con la russia è chiaro che tutti vogliamo i negoziati di pace a un certo punto con la russia non è che gli ucraini si rifiutano lo stesso zeleschi lo ha detto più volte vorrebbe la pace però dipende da che pace propone la russia è chiaro che se vai a vedere all'interno di questo stesso sondaggio il 35 per cento ha dichiarato di essere contrario ai negoziati di pace e il 21 per cento ha dichiarato di essere indeciso tutti sono più o meno unanimi l'ottanta tre per cento quindi non il 50 l'ottanta tre per cento ha dichiarato di essere contraria al ritiro delle truppe dall'oblast dagli oblast occupati come donesk luhask zaporizia e kerson quelli annessi illegalmente dalla russia dipende insomma da quello che si intende con l'inverno alle porte la situazione è drammatica per i civili e vorrebbero vederne una fine ma anche questo bisogna interpretarlo non è che se oggi la guerra finisce si ripristina il riscaldamento e l'energia nelle case come molti dicono è l'ora più buia e quindi bisogna vedere cosa succede bisogna resistere almeno questo quello che dice il governo bene comunque se avete altre proposte domande scrivetelo nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate insomma con questo per oggi è tutto un abbraccio alla prossima